Da qualche settimana seguiamo tutti gli step che scandiscono la volontà di riqualificare la storica chiesa del convento di Giarre. Dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai vigili del fuoco, un nuovo sopralluogo è stato effettuato ieri nella chiesetta con i rappresentanti della soprintendenza e del fondo edifici per il culto. L'arciprete parroco Nino Russo spiega ai nostri microfoni i passi fatti grazie al nuovo incontro per l'ustrativo. Oggi erano presenti un po' gli attori necessari per vedere un po' la situazione, cioè il vero proprietario che è il FEC, il ministero dell'interno, la soprintendenza che è la responsabile dei beni culturali, l'ufficio di Ocesano e la parrocchia. Per vedere un pochettino qual è la situazione, già erano venuti appunto i vigili del fuoco che hanno riscontrato le criticità della situazione e adesso è emerso che la prefettura darà appunto in carico alla soprintendenza per un progetto di massima, non faraonico, un progetto concreto per mettere in sicurezza lo stabile e riaprirlo al culto. Dopodiché dobbiamo intervenire noi come città perché questo è un bene della nostra città, è un bene in cui si sono svolte pagine di storia anche belle, lo dicevamo già l'altra volta, c'è smonta il grappa, quello del nostro quartiere, di questo quartiere che ne hanno soffrito, quindi è bene che tutta la città si riapproprio di un bene che è proprio. Padre Nino Russo riassume poi così i passi successivi. La stesura di un progetto è l'attesa di un finanziamento da parte del ministero, speriamo che nei tempi non biblici, ecco anche se parliamo di tempi biblici ma non biblici, nei tempi concreti certi.